A luglio era diffusa la percezione che ci fossero molte meno zanzare in circolazione rispetto alle altre estati, un fenomeno attribuito dagli esperti all'eccezionale caldo prolungato nel mese scorso in assenza di umidità, una combinazione che ha decimato gli esemplari adulti. Ma dalle trappole dislocate per intercettare le zanzare, il tipo Culex, che può trasmettere il virus West Nile o la zanzara tigre comune, sembra che il resto dell'estate riservi un'ondata di nuove nascite, con un incremento del 50% di uova intercettate e con una densità di femmine per trappola ben al di sopra delle medie degli ultimi 5 anni. Quindi sarebbe in arrivo una crescita esponenziale di uova destinate a maturazione nel loro ciclo vitale in questa prima metà di agosto. La densità di zanzare è dunque salita secondo il sistema di sorveglianza entomologica del virus West Nile, costituito da una rete di 98 trappole attrattive, incluse le 10 piecentine, poste in stazioni fisse, attivate da maggio con campionamenti di routine. Le trappole forniscono dati sulla circolazione del virus e al contempo dati sulla densità delle specie di zanzare presenti in pianura, in particolare la Culex, vettore del virus. Quindi non resta che prepararsi all'arrivo di un'ondata di zanzare con i soliti accorgimenti, maniche e calzoni lunghi la sera, repellenti sulle parti scoperte, pastiglie e larvicide per i tombini e la raccolta dell'acqua. E intanto, strano ma vero, il 20 agosto ricorrerà in tutto il mondo il Mosquito Day.